Questo è il ponte che ha crollato. Una bomba d'acqua e poi improvvisamente intorno tutto allagato. Sono salvi per miracolo ma hanno vissuto momenti di terrore il consigliere comunale di Sarmato Alessandro Vasanti e la sua compagna in vacanza alle Terme di Saturnia nel Grossetano dove a causa del maltempo si sono registrate due vittime. E proprio nel giorno della tragedia, il 14 ottobre, Vasanti si trovava all'interno delle Terme. Proprio il giorno del mio compleanno, il 14, mentre ero a bagno nelle Terme, è iniziato a piovere molto forte, poi a diluviare e allora è scattato un po' di allarme. È andata via la luce alle Terme e noi ci siamo comunque vestiti pronti per partire, solo che c'era un'acqua, un'acquazione che non ce lo permetteva. C'era chi era immobile, pietrificato, c'era chi non era pronto ma anch'io non ero pronto. Vasanti è fuggito con la sua auto prima che le Terme venissero completamente inondate, raggiungendo a fatica il paese di Saturnia dopo aver attraversato pericolosi fiumi di fango e sassi. Queste sono le immagini della tragedia scampata. Quando poi ho visto che si allagava il parcheggio, stava salendo l'acqua, ho deciso di prendere l'auto e di scappare. Sono andato verso la collina, quindi sono andato a 150 metri in più sul livello del mare, attraversando dei fiumi di fango. Purtroppo nella stessa alluvione hanno perso la vita due signore del posto a un chilometro più in basso. La scelta forse di andare in alto è stata provvidenziale. Proprio in questi giorni mi viene il pensiero e la solidarietà nei confronti delle persone che in questa brutta disavventura hanno perso la vita.